23 settembre, Cascina delle Marchine in Dina, festa dei ragazzi della Cascina, bellissimo posto tra l'altro. Il cuore, i nostri cari amici, la famiglia Cincian, la famiglia di Chiricola Face e tutti quelli che ci hanno dato una mano. Il cuore è di tutti, i nostri cari amici, la famiglia di Chiricola di O cleaning , ambience delle nuove eоны, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.